92 pattuglie sono state impiegate in 7 giorni dalla polizia stradale di Piesero e Urbino, oltre 1.200 sono i conducenti controllati e più di 200 le violazioni al codice della strada, numeri importanti dovuti anche all'aumento di traffico e comunque maggiori rispetto al totale di quasi 900 contestati in tutto il mese di giugno. Focus operativo alla riduzione delle principali cause ed incidenti dovuti in particolare all'alta velocità, al mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e all'uso di telefoni cellulari alla guida. Per quest'ultima violazione sono state multate 8 persone. Gli agenti della polstrada poi sono intervenuti in settimana in 21 incidenti nella provincia, 7 dei quali con feriti gravi. Al bilancio di questi giorni vanno aggiunti 150 punti decurtati, 3 patenti ritirate, 3 sequestri e 2 fermi di autoveicoli. Infine, nel corso di un controllo a Montelabate, la stradale ha identificato un nigeriano, ventenne, che risultava destinatario di un ordine di rintraccio per espulsione. Gli agenti hanno quindi avviato in questura a Pesaro le procedure di allontanamento.